L'evento IMSS incontra la cittadinanza di Torino che nasce sull'esperienza di eventi già sviluppati in città negli anni precedenti vuole rispondere a tre esigenze, fare conoscere la cittadinanza, chi siamo, che cosa facciamo dando uno spaccato delle attività prevalenti che noi curiamo quotidianamente in provincia e mostrare anche in che modo comunichiamo con la cittadinanza. Non solamente ai nostri front office ma anche con canali telematici che stanno di fatto soppiantando i contatti fisici. I dati che presenterò nella relazione sono dati a mio modo di vedere molto interessanti perché mostrano il dato finanziario o il dato quantitativo e qualitativo di tutta una serie di servizi che rendiamo che sommati tra di loro consentono all'Istituto di garantire quella coesione sociale che normalmente e soprattutto in tutti questi anni di crisi è essenziale per la tenuta del Paese in questo territorio. Quindi aumenteranno, ci sarà ancora un ulteriore sviluppo sui servizi attraverso il sistema informatico? Assolutamente, l'Istituto è all'avanguardia per quanto riguarda la telematizzazione dei servizi. Noi non gestiamo più fascicoli cartacei ma abbiamo grazie ai nostri partner istituzionali la trasmissione di dati che noi poi processiamo in grandissimi volumi e credo che l'Istituto abbia oggi all'interno del Parlamento delle Pubbliche Amministrazioni probabilmente la banca dati più grande del Paese.